Nicolo, grande gara anche oggi, bravissimo, forse in questa pista è meglio iniziare l'ultimo giro dietro che non davanti Direi proprio di sì, molto, questa pista poi non è che mi porti così tanta fortuna, detto tra di noi Tra di noi, non ci ascolta nessuno Ci sta guardando Rosario, ma questo è una cosa a parte Non è una cosa personale, è una questione di, come dire, di feeling Sei soddisfatto comunque per come è andata una stagione trionfale fino adesso e anche questo campionato, questa Euro Series Sì, comunque è un secondo posto, è buono, però mi accontentavo pure di un primo Mi accontentavo Però è buono e speriamo per la prossima gara L'altra volta eri più arrabbiato all'intervista, mi sembra Sì, non l'avevo parlato, se ti ricordi Però ha fatto un sacco di visualizzazioni lo stesso Sì Adesso vediamo come va questa Speriamo Ma una curiosità, ma ti vesti al buio o è voluta la scarpa? No, così almeno so che questa gialla so che devo accelerare, questa rossa devo frenare Perfetto, e sei inattaccabile Sì, perfetto